Mamma mia per Daniel, che partita intensa veramente Partita intensissima ragazzi, scrivete nei commenti cosa ne avete pensato perché davvero questa partita è stata la benedizione dopo benedizione E se ora esce la mappa che sto pensando allora potrai pure uscire Finirà qua il video, finirà qua il video Ragazzi ci siamo beccati una bella mappa In realtà questo qua è roba che adesso esce fuori e sa cadono però ogni volta le piastrelle spariscono appena le tocchi e c'è solamente due strati Allora, ho un dubbio Ho un dubbio Ma quanto è bello il mio Among Us? Cioè ma io dico 100 su 10 Ok? Andiamo Ok, ok, ok Giù, giù, bounce Sboing, ok Io continuo a fare sboing Oh mio Dio, per pochissimo l'ho preso, l'ho preso per pochissimo Ok Ok, dai Sono Melma, vai E adesso si fa sboing Ok, continuiamo, continuiamo Si va, si va, si va, si va Dai, dai, martello, martello per favore Ok, martello ha deciso di essere mio amico per questo round Ok, facciamo una delle mie tecniche da pro gamer Cioè, arrivati Regniamoci conto, Dani Regniamoci conto, ci siamo messi Dai, 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 dai Ce la possiamo fare, ce la possiamo fare 44 punti Ok, Leonardo 37 37 Va bene, quarti, quarti, quarti Quinti ora Lo stesso Va bene, va bene, va bene Lo stesso ci sono Ci siamo guadagnati un buon posto 5 su 20 Penso ci becchiamo la medaglia Argento Non lo so Se siamo fortunati Va bene Allora, ragazzi Il video finisce No Il video finisce qua Ci vediamo No, dai, sto scherzando Ok, qualificati per ottenere punti Dai Vai, 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 vai Guarda, io vado avanti, mi butto No, ecco Ho fatto Ho fatto la giocata a Mr. Beast Ok Hai fischiato nel momento in cui si è caduto Lo so Io lo faccio sempre Io fischio quando cado Ce le hanno ste persone, eh Con il grabbare la gente Lo so Ma non so cosa vogliono Sono solamente cattive Cattive Bisogna Cioè Si chiamano i kamikaze Questi qua decidono sacrificarsi Per rovinare una partita di un'altra persona Ecco, sì Ma è quello Quella si chiama cattiveria proprio Ok Come è successo su Eta cadono A Leonardo Ecco Sì Va bene però Io mi sono quasi già qualificato Infatti Ok 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 Perfect Ok Io invece sono No Non ci credo Sono caduto ancora Eh vabbè Eh vabbè Io ho caduto Ok 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 Dai Hai 28 secondi per arrivare Non penso ci vedo 28 secondi 25 23 Oddio perché c'era la sbarra Cioè quando arrivano le sbarre così da caso E poi io sbatto la testa e cado Ma chi è che si qualifica da top 8 Ma stai andando all'indietro All'indietro No non sto andando all'indietro Beh comunque ci siamo qualificati Grazie a me Grazie a me Ricordiamocelo Vabbè Avevo pure mercato una medaglia La medaglia Pure una medaglia argento Vabbè Lasciamo stare Ma io invece pronto Ok Il piccione 75 Guarda con Con molta ammirazione Come tutte le squadre Cadono brutalmente su I pali rosa Eh vabbè E poi Oh no Con l'indietro Ma tu sai che il livello è questo vero? Sì Questo è il livello più brutto Che ci possa esistere Sulla storia di questo gioco Tu vai a sinistra Devi stare tutto a sinistra A mezza e a sinistra Devi stare tutto a sinistra Ok No 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 Perché c'è Perché c'è il rotolo di Clash Royale Che viene Eh lo sono simile Allora Io Io però sto Ecco Ovviamente Veniamo beccati dalla Vega Pesca No 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 Non Alissa Ok allora Alissa adesso mi voleva schiacciare E mi vuole ancora schiacciare Dai 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 Mi senti l'anguio Ok 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 Oh Primo 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 siamo primi No 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 La fragola La fragola No La fragola No Ok 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 Grazie Daniel Forse ce la facciamo Forse ce la facciamo Non ce la facciamo Ok Non saltare Vorrei dire che dovrò Non devi mai saltare In sto gioco In sto gioco In sta modalità Ok Stai più al lato possibile Cerca di Ok Ok Forse No Alissa Alissa giuro che se ora Salta salta Vabbè Sì 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 Secondi 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 Addio Vai 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 Ok siamo primi Ok Ok Forse ce la facciamo Non ce la facciamo Ok Ok Allora Daniel è in prima classe Signori Ok Ok Sono ancora vivi Per poco Però Pronto Finito Non ci credo Questa è la prima volta Che dico un rotatore Non ci credo Non ci sto assolutamente credendo È un momento veramente Incredibile Da mettere nella storia Sto piangendo Sto piangendo Così commobenti Signori Siamo la finale di nuovo Non ci credo Dobbiamo vincerla questa Dai ragazzi Forse ce la facciamo Esa in tondo Ok vediamo Vediamo Dai Sur Non capiterà Quello dai Eccolo È grande Bellissimo Questo Ok Allora Io Ok vediamo Adesso grabo io tutti Madonna Faccio io adesso Il cattivo Il cattivo Anche io Guarda Guarda come ora Guarda Adesso cade Perché viene Grabata Oh no Oh no Sta cadendo questa qua Allora Ok 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 No 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 Ok Va bene Allora io prendo il Il pulcino Pio Sono in una situazione Non molto bella Anche io Anche io Ok Dai 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 Ok Ok ho grabato un Assassin's Creed Quasi distrutto Puoi dire anche Ezio editore Ezio editore è vero No Assassin's Creed è il gioco Ok abbiamo tre Eliminati Tra poco Sarà No niente 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 Perché deve Sempre succedere Niente Allora Ok Allora Se non cade L'altra Siamo messi Malissimo Lo sai Perché sono Tutti qua Sì lo so Quindi vuol dire Che dobbiamo saltare Appena Lo sentiamo E forse Riusciamo a sopravvivere Intensive Ok Ma se cade Per favore Che cade L'altra Che cade All'altra Che cade All'altra Per favore Ma se no moriamo tutti L'ultimo L'ultimo Proprio per il centesimo Secondo Per il nano Secondo Poi Secondo Il vincitore Mamma mia Mamma mia Daniel Ok Ok Allora Allora Forse ce la facciamo No Daniel Non cantare Prima Non cadono Persone Ok È caduto Dai 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 per favore che il dio dei boys ci sia Che il dio dei boys abbia il nostro culetto Ma quanto sta andando veloce una Bucati Veyron madonna Ragazzi Jumping Simulator 2022 edition È estrema Questa partita Adesso mi grabbo al pollo Lo faccio Ok No 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 C'è solo il pollo C'è solo il pollo Ok Leonardo ce la puoi fare No Devi solamente Far fuori Il pulso Il mio cuore Il mio cuore sta per esplodere in aria No 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 Ok Oh Ok allora Poi dei bei rispiri Oh non ci credo Non ci credo Non ci credo Che content Che content Per il canale Non ci credo Non ci credo Ce l'abbiamo fatto Jump è la mia primissima vittoria Che partita Ragazzi si balla Si balla Che partita Ok Va bene Ho ottenuto anche 1200 xp Benissimo Ah e ho preso Per una corona Perché ho sbloccato i punti Che godure No 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 vabbè Ho ottenuto i kudos Ho ottenuto anche un nuovo livello Quello è infradito Direi che è meglio di così Non possiamo finire il video Daniel Cioè Ragazzi Davvero non ci sto credendo Anche io Bene ragazzi Questo qua era Fall Guys Con Leonardo E Daniel Sarà con te E io Sì ovviamente E Speriamo che il video vi sia piaciuto Mettete un grandissimo like Iscrivetevi al canale Vi ricordo Vi ricordo che se volete andare a usare i nostri codici creatori Li potete trovare nelle nostre descrizioni Yes E bene ragazzi Questo qua è la fine del video Se vi è piaciuto lasciate un magnifico like Iscrivetevi al canale E ci vediamo al prossimo video Ciao Ciao